Lunedì 23 luglio alle 17, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e l'assessore al governo del territorio Roberto Gerundo presenteranno nei locali della Biblioteca Comunale di Palazzo Toledo lo sportello unico per l'edilizia, ovvero procedure telematiche e regolamentazione tecnico-amministrativa. Il principale obiettivo dell'iniziativa, che è solo il primo passo ad una serie di incontri che avrà accadenza mensile, sarà quello di creare un rapporto trasparente e collaborativo tra l'amministrazione comunale e le imprese, come spiega l'assessore Gerundo. Avremo un ufficio nel quale saranno concentrate tutte le pratiche, le attività, le istanze che riguardano il ciclo dell'edilizia, i permessi di costruire, le denunce di attività, le comunicazioni, le attività interlocutorie dell'amministrazione con la cittadinanza e la cosa interessante è che sarà tutto informatizzato, vale a dire che i tecnici potranno comunicare con l'amministrazione nella massima trasparenza quindi, perché sarà tutto tracciabile. Saranno dunque ridotti i tempi delle pratiche che i cittadini inoltreranno a questo ufficio? Questo strumento telematico ovviamente agevolerà i tecnici che potranno in via informatica e telematica inoltrare le documentazioni e interloquire con l'amministrazione, quindi c'è un risparmio nella tempistica di lavoro. All'incontro sono invitati tecnici, ingegneri, consulenti, geometri, avvocati. Tutti coloro che sono interessati a questa vicenda, è una vicenda difficile e complicata anche perché noi abbiamo un territorio molto vasto, estremamente vincolato in molti modi, archeologico, paesaggistico, idrogeologico, rischiosismico, bradisismico, abbiamo fasce costiere, abbiamo di tutto in questo territorio e quindi la necessità di razionalizzare il rapporto fra l'amministrazione e il cittadino e i tecnici è fondamentale. Le seguenti iniziative riguarderanno il tema del patrimonio edilizio, del contrasto all'abusivismo, dell'edilizia residenziale sociale ed altro ancora. Tutte iniziative che sono alla base del programma dell'amministrazione. Sono alla base del programma dell'amministrazione che progressivamente saranno messe in campo con un processo partecipativo molto esteso e capillare che riguarderà gli attori e gli interessati per ciascuna di queste problematiche.